Qualche euro per i terremotati si può raccogliere anche attraverso un'operazione che uno svolge quasi quotidianamente, quella di mangiare, di recarsi in un ristorante, di cercare di passare una serata un po' diversa. Premetto che l'idea è nata su WhatsApp perché noi come ristoratori, bar e chi è che voglia far parte di questo gruppo ci teniamo in contatto tramite WhatsApp. Uno dei nostri, chiamiamoli volgarmente associati, ma è Chico della Mandria, del ristorante della Mandria, ha lanciato l'idea di tirare fuori qualche soldo per i terremotati. In questo caso noi abbiamo scelto Arquata del Tronto, ma l'intento è solo ed esclusivamente quello di cercare di sensibilizzare altri esercenti o anche cittadini e via dicendo, a dare una mano a questo sindaco di Arquata con un nostro bonifico o altri bonifici che adesso continueremo a fare perché ho avuto oltre a questa prima parte di adesioni, altre adesioni e adesso io sto raccogliendo e rifaremo ancora dei bonifici nei confronti di queste popolazioni. Quindi esercenti, ristoratori, commercianti che vogliono comunque avere questo canale, voi siete aperti? Io ho messo il mio numero di telefono, chi ci volesse chiamare ci può chiamare, raccogliamo e giriamo, raccogliamo e giriamo perché hanno bisogno di qualcosa subito.